Allora, prima di iniziare con la lezione di oggi, che sarà un'introduzione al framework Spark, che è un framework web, e al costruire un server REST con questo framework, due avvisi. Quindi, il primo avviso, questo è un avviso che c'è su DIR, ma visto che poi dopo aver messo l'avviso ho ricevuto un certo numero di mail chiedendomi la stessa cosa che è scritta qua, lo provo a dire a tutti così, e poi vi invito a leggere questo avviso che c'è sul forum. Quando caricherete i laboratori, le esercitazioni, come è scritto in questo e come ha detto via mail a qualcuno di voi, l'interfaccia grafica di OnCloud, per quanto riguarda il caricamento anonimo, ha i suoi limiti, diciamo così. Nel senso che lei vi mostrerà sempre e comunque questa scritta uploading qui in alto. Potete tenerla aperta 4 ore e lei vi mostrerà 4 ore uploading, anche se è caricato un file da un byte. È così. Per sapere se il file è stato caricato con successo, in fondo, sotto nella pagina, quando il file viene caricato, compare scritto sotto uploaded files il nome del file che avete caricato. Quindi se qui non vi compare il file che avete caricato, vuol dire che non è stato caricato. Se qui vi compare il nome del file, vuol dire che è stato caricato con successo. Questo, se fate attenzione a questo, mi evita uno di rispondere alle vostre mail in cui mi chiedete l'ho caricato con successo, sì, tutte e quattro alle volte, e mi evita di cancellare tre file per ognuno, per tenerne uno solo. Quindi per le prossime due volte, ignorate quell'uploading lì in alto e guardate se qui sotto vi compare questa scritta. Se non vi compare, non è stato caricato con successo, se c'è un errore ve lo dice, ma ignorate quell'uploading lì in alto. Spero che un giorno questi signori si rendano conto di quella roba là e decidano di toglierla quando l'upload è completato. Però al momento è così, quindi guardate qui sotto sempre. Questo è comunque su dir nel forum in evidenza, quindi a un certo punto ricontrollatelo se ve lo siete dimenticati. E questo è il primo avviso. Il secondo avviso, come avrete visto, il secondo avviso è fatto di due parti. La prima parte è, come avrete visto, in base ai gruppi che avete compilato sul documento condiviso, ho iniziato a creare i repository per ogni gruppo e a invitarvi su GitHub, nell'organizzazione RETI2 2019. Ogni gruppo, ogni membro di ogni gruppo dovrebbe aver ricevuto una mail da GitHub che lo invita a partecipare a questa organizzazione. Se così non è, uno, provate a loggarvi su GitHub a vedere se vi compare un avviso per entrare a far parte di questa organizzazione. Due, ditemelo, che vi rinvito tramite il sito. Ogni gruppo dovrebbe avere accesso, in lettura, scrittura, a pieni poteri, diciamo, a un repository privato. Quindi ogni gruppo ha il suo repository, che si chiama come il gruppo, esattamente come l'avete messo sul documento, con tanto di puntini quando ci sono, tipo FBG o FOLL, più in fondo. Quello è il repository su cui voi dovrete committare e caricare, utilizzando Git, il progetto finale del corso. Entro tre giorni prima, quello che sarà, l'appello in cui il gruppo deciderà di sostenere l'esame. Quindi non c'è altro tipo di consegna, tutto dovrà essere in quel repository, nel repository del proprio gruppo. La seconda parte della domanda è che, della domanda, dell'avviso, è che io sono a conoscenza di due vostri colleghi che sono al momento senza gruppo. Ora, io non voglio, e non lo farò, forzare nessun gruppo da tre a prendere i membri mancanti, però apprezzerei molto, molto, se qualche gruppo da tre volesse includere queste due persone. Ovviamente una per gruppo. Nella pausa, se c'è qualche gruppo volenteroso, venga a dirmelo che vi do i nomi di una di queste due persone, o di entrambe, così che possiate contattarle e includerle in un gruppo. Questo è il secondo avviso. Detto tutto ciò, parliamo di Spark. Allora, come vi accennavo diverse lezioni fa, il nostro obiettivo qui è quello di, il nostro obiettivo, parte del nostro obiettivo è quello a un certo punto di avere un server REST, quindi che esponga delle API REST. Per questo corso noi lo faremo in Java. Per il progetto il server REST deve comunque funzionare su Raspberry, quindi è auspicabile che sia fatto così. Per far ciò proveremo a imparare un framework molto semplice, che è un micro framework, Java, che è pensato apposta per il mondo REST, prima che per altro, che è semplice, quindi è snello, ha poche cose, ha poche funzioni, ma è estendibile, quindi si può rendere complicato a piacere. E l'obiettivo di oggi, di queste due ore, è di creare un servizio REST in Java, utilizzando questo framework. Quando io dico Spark, che è il nome di questo framework, se voi cercate Spark su internet, con Java, vi capiterà spesso di trovare Apache Spark, che è tutta altra roba e non c'entra niente. Questo è un progetto che ha lo stesso nome, ma in realtà è un framework web. Dal sito, che è sparkjava.com, i creatori di questo framework lo definiscono come un micro framework per creare web application in Java 8 e successivi, con minimo sforzo. E quindi questo è anche uno dei motivi per cui alla fine è stato scelto in questo corso. Questo minimo sforzo. Da come dice la definizione, è compatibile solo con Java 8 e successivi, quindi non con Java 7 non funziona. è principalmente utilizzato per creare REST API, ha una sua versione in Kotlin, e ha di default il supporto per le funzionalità di base del mondo web, quindi per le sessioni, per i cookie, per il redirect, per le risposte, per le richieste, i verbi HTTP e così via. è estendibile nel senso che di default ha le funzionalità di base, ma può essere aggiunto un ORM, quindi un Object Relationship Mapping per l'interazione col database, può essere aggiunto uno o più engine di templating per creare pagine HTML, può essere aggiunto tante cose, in svariati modi, quindi lasciando anche una certa libertà allo sviluppatore e di scegliere quello che preferisce per realizzare queste funzionalità. Avete bisogno di una sedia? Qua ce n'è una, due. Niente. Niente. Questo, vabbè, è il sito di Spark, con l'elenco di alcune compagnie che lo usano, eccetera, eccetera, è una serie di documentazioni e tutorial, tra cui un Getting Started, e come potete più o meno vedere qui, Spark ha una serie di funzionalità, come vi dicevo, abbastanza ovvie, ma necessarie, per esempio, la possibilità di impostare delle root, di gestire le richieste, le risposte, i cookie, le sessioni, gestire gli errori. Ha un metodo, per esempio, per gestire il not found ed emettere il 404 in automatico. Può, ha un, ha, vabbè, la possibilità di passare su una connessione sicura, quindi con HTTPS, si può rimpiazzare il server web che utilizza, utilizzano attivamente Getty, ma si può rimpiazzare e decidere di usare un altro. Ha vari meccanismi, come vi dicevo, per il templating, per le viste e le template, se uno volesse realizzare pagine HTML, cioè una lunga lista di plugin di estensioni supportate. Uno può scegliere, a me piace Velocity, io l'ho già utilizzato, utilizziamo Velocity, oppure Handleboards, oppure Mustaci e così via. Con un po' di documentazione per ognuna di queste cose. E anche una serie di tutorial, dai più facili ai più difficili, per anche imparare nuove funzionalità, se sarete interessati in questo. Noi principalmente lo useremo come componente gateway, nel nostro progetto, nella nostra architettura, e quindi lo useremo per esporre PI REST, e quindi essenzialmente per queste parti. Non ci interesserà tanto, per esempio, funziona su Raspberry, come questo tutorial evidenzia, non ci interesserà per esempio molto la connessione sicura, perché non avremo un certificato da utilizzare, o non ci interesserà in maniera particolare le viste, o cose così. C'è qualche problema? Se non siete interessati, non è che siete obbligati a star qui, eh? Per utilizzarlo, allora, qui c'è una sedia, oggi siamo di nuovo in carenza di sedie, qui c'è una sedia e lì c'è un computer, in terza fila. E poi... In braccio non posso tenerti, quindi... Ok, dicevo, per utilizzare Spark, Spark è un jar disponibile su Maven, ma anche utilizzabile in Gradle. Quindi, vedremo, lo utilizzeremo in questo modo. E... La sua... Il suo Hello World, la sua Kickstart, come c'è anche riportato sul suo sito, è molto semplice. Principalmente si tratta di importare i package necessari, di Spark, viene suggerito di importarli in maniera statica, in modo da poi poter utilizzare i metodi senza tutte le volte dire Spark, punto, Spark, punto. E dopodiché, Spark usa un concetto di root, direttamente, da indicare, in questo esempio nel main, e quando si fa partire questa applicazione, il web server viene lanciato e non viene interrotto finché uno non stoppa il programma o finché non si incontri il metodo stoppa all'interno del codice. Di default, Spark si pubblica sulla porta 4567. Questo è configurabile, se volete, come prima cosa nel vostro codice, prima di dichiarare qualunque root è necessario cambiare la porta, se vi interessa cambiare la porta. E come vi dicevo, si può anche rimpiazzare il web server che è incluso, che getti con altri server, Tomcat, quello che volete. Non è il nostro caso. Ogni risorsa web, che sia una risorsa REST o che sia una pagina HTML o qualunque risorsa, viene implementata con un metodo strutturato in questo modo. Prima di tutto c'è il verbo HTTP che si vuole utilizzare, che il server deve rispondere. Quindi, per esempio, get. Questa riga risponderà a una get ricevuta dal server. C'è l'equivalente post, poi c'è il put, eccetera. Il primo parametro di questa get, di questo metodo, è la URL relativa del server, la relativa alla chiamata. Quindi, in questo caso, si vuole rispondere direttamente nella root del server, quindi su localhost 4, 5, 6, 7, con una get. Il secondo parametro è una coppia richiesta e risposta che contengono gli oggetti appunto della richiesta che arriva al server e della risposta che verrà poi restituita dal server. Oggetti che si possono manipolare e da cui si possono prendere informazioni o inserire informazioni. Questo metodo deve a un certo punto ritornare il contenuto della risorsa. In questo esempio molto semplice ritorna la frase hello world quindi stampa su browser se viene intercettata da un browser semplicemente la stringa hello world. Quindi è un esempio molto molto semplice ma che evidenzia le tre caratteristiche di ogni chiamata Spark. Quindi questo è un get a una certa url che ritorna un certo contenuto. Ci potrà essere un post a un certo url che manipola e fa altre cose e ovviamente non ritorna un contenuto. Spark vi dicevo è utilizzabile da Java 8 in poi perché utilizza come vedete qui le lambda che in Java 7 non esistevano. ok prima di passare alla parte rest proviamo a a vedere come funziona e a farlo funzionare quindi apriamo IntelliJ ok e facciamo il nostro esempio di hello world esattamente come ci dicevano le slide o ci dice il sito di Spark quindi creiamo un nuovo progetto sempre Gradle che possiamo sempre chiamare it uniupo punto reti2 che possiamo sempre chiamare Spark hello e tutto questo è sempre come il solito quindi un progetto vuoto in cui nel nostro file Gradle andremo a inserire prendendola da sito la dipendenza che è com sparkjava due punti spark core due punti 280 se uno volesse ci sono altri sistemi di gestione diversi da da Gradle riportati qui con anche esempio su come si utilizza la parte Kotlin che noi evitiamo quindi qui diventerà implementation e a questo punto dopo averlo aggiunto possiamo creare una nuova classe che facciamo chiamamola come la chiama qui hello world in cui andiamo proprio a copiare e incollare l'esempio che c'è sul sito ok quindi come vi dicevo c'è un main all'interno del quale c'è quest'unico metodo che è questa get che rappresenta una richiesta get che arriva al server di cui questo server deve essere in grado di rispondere a un certo path relativo in questo caso hello e il risultato di questa richiesta in questo caso sarà direttamente la stampa il return di hello world se noi proviamo a eseguire questo se noi proviamo a eseguire questo ok e andiamo all'indirizzo localhost 4567 slash hello vediamo che ci stampa è esattamente quello che ci aspettavamo notate però che qui in IntelliJ non succede niente rimane bloccato su questo run task e questo perché da una parte IntelliJ si intromette e fa partire tutto come task di Gradle ma che è un problema l'altro problema è che lui per visualizzare per esempio l'url per visualizzare certi warning errori ha bisogno di una libreria di logging per stampare gli errori per esempio slf4j è una libreria che si può utilizzare quindi inserendo slf4j viene anche stampato la url a cui il server si trova e tutta una serie di altri messaggi che possono essere utili per capire se le cose funzionano oppure no e Spark come tutti gli altri software Java le librerie Java che abbiamo visto finora supporta JSON nativamente e quindi sarà di nuovo la nostra libreria di scelta quando andremo a utilizzare del JSON quindi per ora questo lo fermo e lo chiudo e torniamo un attimo alle slide allora per provare a utilizzare Spark un pochino in maniera più sofisticata diciamo di questo esempio proviamo a costruire come vi dicevo un server rest il nostro server rest che svilupperemo effettivamente nella seconda ora dovrà fare queste quattro cose prima di tutto deve collegarsi a un database questo database sarà locale sarà su file nel nostro caso per semplicità e questo database conterrà una serie di task di cose da fare in particolare per ogni task il database fornirà due informazioni oltre l'ID la descrizione del task e il fatto che il task sia urgente o no in maniera simile alla prima esercitazione che avete fatto il server deve poi fornire alcune API rest per svolgere queste operazioni mostrare un singolo task quindi il task numero 26 mostrare tutti i task esistenti e offrire la possibilità di creare un nuovo task tutto questo utilizzando la struttura REST che abbiamo visto diverse settimane fa giusto per essere chiari l'architettura a cui noi ci stiamo ispirando a cui noi stiamo puntando è quello di avere un server HTTP che fornisca delle API rest che si colleghi a un database quando serve e fornisca tramite JSON le proprie informazioni a chiunque ne abbia bisogno e a qualunque tipo di applicazione sia se è un'applicazione da linea di comando va bene può essere un'applicazione mobile per assurdo può essere un sito web come potrebbe essere nel vostro nel caso del progetto finale che interroga quel database che interroga quel server REST e in base alle informazioni JSON che riceve visualizza tale informazione nel frontend allora quello che facciamo adesso prima di metterci a sviluppare il server REST e scriviamo l'API che sarà anche un qualcosa che dovrete fare a un certo punto voi quindi la prima cosa quando si risorsa quando si vogliono definire delle API REST è definire qual è la risorsa che volete esporre tramite queste API come si chiama la risorsa nel nostro caso quali possono essere nomi papabili di risorse sì dillo però ad alta voce che task poi e va bene task è valido altri nomi di risorse nel nostro caso nessuno solo task id no ci serve il nome di una risorsa che identifichi l'oggetto che noi vogliamo rappresentare quindi vogliamo rappresentare dei task va bene l'id sarà una parte del task e quindi non è il nome della risorsa ok si però sarà task la collection to the task no la descrizione è una particolarità del task potrebbe essere to do come la to do list potrebbe essere no no potrebbe essere cose da fare un qualcosa che rappresenti l'oggetto o gli oggetti che vogliamo rappresentare ed esporre attraverso questo server non le proprie caratteristiche allora nel nostro caso direi che per semplicità potremmo scegliere task quindi la risorsa è task quindi la nostra url di base sarà http nome del server portale server slash ipotizziamo api ipotizziamo versione 1 lui dice task la lista di task la si cosa scrivo però lì lista di task ah ok quindi task è parzialmente giusto potrebbe essere task list oppure potremmo risparmiare caratteri e chiamarlo direttamente task perché? perché la collezione di una risorsa è sempre plurale quindi va bene task list ma va bene anche task tanto non abbiamo altri oggetti che rappresentano una collezione di task al di fuori di questo e quindi questa è la nostra url di base adesso cosa dobbiamo fare? dobbiamo tre cose visualizzare tutti i task visualizzare un singolo task e creare un nuovo task allora per visualizzare tutti i task secondo la struttura rest ci serve verbo url verbo http e url da chiamare e poi se vogliamo esempio di risposta che potremmo ricevere ma partiamo da url per visualizzare tutti i task questa è facile perché è già scritta esatto esatto in questo caso dobbiamo fare una richiesta sull'intera collezione quindi questa qua e che verbo dobbiamo usare get per visualizzare invece o per recuperare un singolo task bisogna inserire un id bisogna inserire un id quindi questo cosa un id facciamo identifichiamolo così per il momento l'id l'id nel nostro caso cosa sarà cosa potrebbe essere cos'è un numero perché l'id del database quindi sappiamo che un numero ma va benissimo che sia un numero e il verbo sempre get per creare un nuovo task invece si usa quindi tu dici così così chi è d'accordo e chi non lo è chi è d'accordo o quasi d'accordo o per niente d'accordo adesso è il momento di parlare non prima chi è che dice che è giusto alzi la mano e chi è che dice che è sbagliato alzi la mano tu dici che è sbagliato perché dici che è sbagliato c'è un nuovo elemento dobbiamo fare la lista e fare il put allora si aggiunge un nuovo elemento si opera sulla lista in rest quando si aggiunge un nuovo elemento si fa non una put ma si fa una post sulla lista e poi l'id non lo passa l'applicazione lo crea il server tu pensate che queste qui sono api che un'applicazione qualunque può chiamare e allora se ognuno si mette a definire id come gli pare diventa un disastro dal punto di vista del server il server è quello che dà gli id se no non sono più tanti id alla fine perché bisogna gestire i conflitti bisognerebbe gestire tutte queste cose quindi per creare un nuovo task abbiamo bisogno di una post sulla collezione dobbiamo passare qualcosa nella richiesta a questi tre metodi a questi tre metodi si no no si si scusami oltre a quello che ho già scritto il primo ha bisogno di un body di un body http è una get una get http può avere un body un corpo della richiesta no e quindi non si passa niente nel secondo caso la risposta è di nuovo no nel terzo caso la risposta è invece sì cosa dobbiamo passare i dati del singolo task quindi per esempio in json potrebbe essere una cosa così description sappiamo che il nostro task ha due proprietà una la description e l'altra è l'urgenza la priorità questa è una cosa da fare è urgent per esempio può essere numerico 0 per indicare non è urgente 1 per indicare che è urgente un esempio di risposta qui invece quale potrebbe essere immaginiamo di chiedere il task con id numero 5 quindi di fare questa chiamata qui che è lecita cosa ci potrebbe rispondere come json ok quindi qui cosa leggiamo senza andare eccessivamente nel dettaglio ovviamente cosa mi aspetto qui dentro di scrivere che sono le ho appena scritte qui sotto che non si vedono più ok description e e urgent e qualunque cosa ci sia scritta qui ovviamente adesso non andiamo nel dettaglio qui cosa ci aspetteremmo di trovare quindi per esempio potremmo trovare un array un array con dentro i nostri task e qui dentro cosa ci aspetteremmo di trovare sicuramente description e urgent basta o ci aspetteremmo di trovare qualcos'altro adesso lui ha bisbigliato una cosa che io ho sentito e magari anche chi è a fianco qua cosa ci aspetteremmo di trovare se ci aspetteremmo di trovare qualcosa solo descrizione urgente o anche qualcos'altro l'ID e allo stesso modo l'ID potrebbe essere valido anche qui questa è una scelta stilistica di chi realizza il server è valido avere l'ID sia di qui che di là qui è un'informazione ridondante perché l'avete già nella url l'ID lo sapete non è che la persona deve ricevere di nuovo l'ID indietro però può anche essere una conferma del fatto che l'ID sia davvero la risposta che ha ricevuto e avere anche una certa uniformità tra le varie richieste tra le varie risposte quindi nel primo caso si ricevono l'ID di tutti nel secondo caso anche per uniformità nel terzo ovviamente come dicevamo prima non potete passare voi l'ID perché voi siete il client e il server deve gestirli lui l'ID per la creazione di qualcosa di nuovo quindi per esempio ID 1 descrizione quello che è e urgente quello che è 1 per esempio virgola la stessa cosa con un altro ID ovviamente e così via se noi volessimo cancellare un task visto che il ripasso sul resto mi sembra necessario che cosa scriveremmo come verbo e URL quindi remove slash api slash v1 slash task slash id ok invece che di remove che non è un verbo http delete se volessimo aggiornare un singolo task put se volessimo aggiornare tutti i task potreste fare un put sulla lista intera ma sarebbe bello non farlo se volessimo cancellare tutti i task un delete sulla lista sì potete scriverlo ma no non è un'operazione valida un delete sulla lista è un'operazione valida ma è un'operazione molto molto rischiosa si può fare una post così si può fare una post così in rest ha senso e che cosa fa se ha senso chi è che dice che ha senso nessuno chi è che dice che non si può fare ha ragione che ha alzato la mano e lui l'id viene assegnato da server non ha senso non si può fare una post su un singolo oggetto cosa crei in un singolo oggetto c'è già l'oggetto al massimo lo fai sulla collezione per creare un qualcosa all'interno della collezione altra domanda di interrogazione su rest quando faccio una put per aggiornare un singolo task cosa sarebbe meglio passare come corpo della richiesta tutto il task da aggiornare un pezzo del task da aggiornare è indifferente è a scelta dello sviluppatore è in base al giorno della settimana quindi tu dici faccio una put su su api v1 task slash 1 e passo solo la nuova description perché voglio aggiornare la description ok facciamo finta che voglio aggiornare solo la description di un task che già esiste passo la nuova description e non passo il nuovo urgent cioè non passo l'urgent che è uguale a prima tu dici così io ho questo task qui voglio aggiornare la description ma l'altro non voglio modificarlo cosa tu dici che bisognerebbe passare tutto solo description che è quello da aggiornare solo description qualcuno la pensa in maniera contraria mandi tutto chi si schiera con uno dei due tutto qui dicono tutto un pochino chi è che dice tutto chi è che dice parziale e poi gli astenuti non c'è il quorum qui allora come dicevamo qualche lezione fa sarebbe più corretto passare tutto perché il resto ragiona sulle risorse e quindi tu vuoi creare una nuova risorsa vuoi recuperare una risorsa vuoi recuperare tutte le risorse e vuoi aggiornare una risorsa nella sua interezza è ammesso nella pratica anche un aggiornamento parziale quindi anche solo description ovviamente bisogna informare opportunamente lo sviluppatore del client che fa così però è ammesso nella pratica e quello che nella pratica si fa che vi avevo già detto settimane fa è invece di usare una put per un aggiornamento parziale si utilizza una patch che è un altro verbo HTTP un po' meno utilizzato ma esiste però se voi nel vostro progetto utilizzate una put nel caso serva per aggiornare una risorsa in maniera parziale va bene uguale perché nella pratica si fa spesso così soprattutto se la risorsa è molto grande e bisogna cambiare un solo campo di questa risorsa magari ok questi li teniamo qui perché adesso proviamo a implementare questa roba allora io vi ho messo su GitHub e poi facciamo una pausa così voi potete scaricare questo vi ho messo su GitHub un progetto di partenza un progetto di partenza che voi potete clonare direttamente da dentro IntelliJ che non ha al suo interno Spark ma ha essenzialmente la parte regata al DB quindi ha un database in SQLite quindi totalmente su un file che è all'interno del progetto con già dei task 5 4 5 ha i metodi per fare le select e le insert all'interno del DB e serializzarli in oggetti Java in un oggetto Java che è il task essenzialmente una serie di metodi per fare il get sulla select sul DB la select di un singolo elemento e l'insert di un singolo elemento nel DB quindi questo lo possiamo clonare quindi copiamo questo link e apriamo IntelliJ se non l'avete mai fatto c'è una voce invece di open e import c'è una voce check out from version control da cui voi potete selezionare git e indicare la url che prendete da GitHub dalla parte di clone e poi indicate sotto dove volete che venga salvato questo progetto sul vostro computer potete provare a fare test per verificare che tutto funzioni che il link messo sia giusto non è necessario assolutamente schiacciare su login to GitHub perché è un progetto pubblico quindi si può scaricare e poi fate clone lui riconosce che è un progetto Gradle vi chiede se volete aprirlo voi gli dite di sì vi chiede come importarlo conviene sempre mettere le spunte sia su usa auto import che crea directory per contenuto vuoto nel caso in cui ci siano cartelle vuote o cartelle mancanti per esempio la cartella test non dovrebbe esserci su GitHub ma ha un progetto Gradle è utile il resto va bene il default premendo ok lui vi crea un progetto partendo da da quel repository utilizzando Gradle per scaricare le dipendenze e cosa c'è in questo progetto nel file Gradle c'è un jar una libreria che è la libreria per il driver JDBC per interfacciarsi al database in questo caso SQLite quando io dico JDBC voi sapete di cosa sto parlando? vagamente? Sì o no? No in Java senza fare un corso di database in Java in Java i database si accedono attraverso un connettore attraverso un API standard diciamo che prende il nome di JDBC Java database connector e ogni database ha il suo connettore ha la sua libreria JDBC volete interfacciarvi a SQLite c'è il JDBC per SQLite volete interfacciarvi a MySQL o a MariaDB c'è la sua JDBC volete interfacciarvi a Postgre c'è la sua libreria JDBC questo JDBC offre un layout comune a tutti i database che cambia essenzialmente sul modo in cui voi effettuate la connessione perché perché SQLite è su file e quindi la connessione la fate a un file che è su disco con MariaDB MySQL Postgre e quant'altro e invece è un server e quindi vi chiederà la URL vi chiederà il username vi chiederà la password eccetera eccetera il nome del DB e quindi avrete un modo diverso di fare la connessione da quel punto in poi sono metodi sono API e un mate sono metodi sono funzioni per interfacciarsi al DB che sono uguali indipendentemente quasi uguali indipendentemente dal DB che c'è sotto quindi adesso io in questo progetto c'è l'interfacciamento a SQLite tranne che la riga di connessione lo stesso metodo le stesse operazioni valgono anche per qualunque per gli altri DB MySQL MariaDB Postgre e quant'altro quindi questo importa SQLite alla JDBC uno potrebbe importare MySQL alla JDBC o quant'altro come libreria e poi il progetto è composto da tre file più un task service che è vuoto il primo file si chiama dbconnect è dentro un package che ho chiamato util che essenzialmente gestisce la connessione al DB quindi prende crea un'istanza e chiama questo get connection attraverso JDBC che apre una connessione al database in questo caso il database come vi dicevo è su file e quindi la url del database è jdbc due punti SQLite perché è SQLite fosse MySQL sarebbe jdbc due punti MySQL per esempio e la posizione del DB in questo caso il DB è su disco e all'interno del progetto e quindi è dentro src main resource task DB MySQL nel caso non l'abbia mai detto è un DB molto molto snello molto molto semplice ed è su file quindi quel file lì è proprio tutto il database che voi avete spostandolo da un computer all'altro spostate l'intero database non è un server è giusto un file che per quello che dobbiamo fare qui o noi in generale su questo corso probabilmente è più che sufficiente senza bisogno di andare a scomodare MySQL quello postgre che ovviamente sono molto più performanti molto più completi ma anche più complessi e più pesanti richiedono un server e quant'altro questo è un file quindi è molto comodo anche passare le informazioni senza fare il dump senza fare nient'altro quindi questo si preoccupa di aprire la connessione dopodiché ci sono due altre classi una si chiama task ed è praticamente il modello mvc sì perfetto è il modello di quella mvc non abbiamo le viste controllore al momento ma il modello ce l'abbiamo rappresenta il task essenzialmente ha un int con id una stringa con la description e un int che è urgente ha due costruttori per costruire questo oggetto e ha the getter e ha the getter per restituire quegli elementi è un modello definisce le cose in java per riempire un oggetto partendo da un database o per recuperare le informazioni da un database attraverso secondo un certo modello si usa si usano i DAO che diciamo che in questo caso che spesso bisognerebbe implementarli come interfacce da implementare sulle varie classi in questo caso è una versione molto più snella molto più comoda che è la classe che si occupa effettivamente di da una parte fare le query al db e dall'altra riempire l'oggetto java corrispondente quindi fa le query al db per riempire l'oggetto task e quindi questa classe task dao ha una serie di metodi per esempio get all task che fa una select sul database come fa una select vabbè definisce la stringa giusto per vedere questa sintassi ma poi uguale per la insert per l'altra select definisce la stringa SQL apre la connessione prepara un oggetto per eseguire la query esegue la query e dato che questa è una select memorizza il tutto in un result set perché ci aspettiamo un risultato essendo una select e se questo result set non è vuoto finché non lo esoriamo tutto quindi navighiamo in tutti i risultati cosa facciamo? creiamo un nuovo task uno per ogni riga del db e mettiamo i task in una lista perché questo è get all task e questo metodo chiude la connessione e poi chiude la connessione al db e poi restituisce la lista di task stessa cosa senza lista il select di un singolo task per id apre la connessione prepara la query esegue la query se c'è un risultato crea un nuovo task e restituisce crea un nuovo oggetto di tipo task e restituisce ritorna questo al chiamante e chiude la connessione l'insert funziona in maniera molto simile ovviamente non ha un result set perché è un insert e quindi apre la connessione prepara la query aggiunge eventuali variabili eventuali parametri questa è una insert quindi bisognerà sapere che cosa inserire esegue la query sul db e chiude la connessione e questo è praticamente invariante sia che voi utilizzate SQLite che voi utilizzate qualunque altro database SQL proprio perché questa JDBC offre questo livello di supporto cross database diciamo quindi questa è la parte che gestisce la connessione col database ora noi dovremo dopo la pausa dovremo scrivere un server rest che quando chiameremo la url API versione 1 tasks vada a chiamare il metodo get all tasks prenda la lista di tasks e li converta in JSON e lo restituisca al client al chiamante stessa cosa per il single ID e stessa cosa per il post però prima come vi dicevo facciamo 10 minuti di pausa e se c'è qualche gruppo che si vuole rendere volontario per accettare uno o due dei studenti che non sono ancora assegnati a un gruppo me lo dica grazie a tutti grazie a tutti